5 4 3 2 1 via quello che ci vuole sono dei buoni corridori che abbiano cuore, fegato, riflessi pronti polso fermo e reni d'acciaio intravediamo lontano all'inizio del rettilerio un corredore avvicinarsi spingendo a piedi la sua motocicletta Giovanna, senti, senti come canta possiamo vincere, vanno per me, vai Carlo così ricordi di comprare i giornali di domani mattina in qualcuno forse leggerà che lei è un eroe